Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda. Questa è la diciannovesima settimana ed è la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio, quindi siamo entrati in una settimana bella completa di maggio. E questa settimana qui ho deciso di decorarla a tema arcobaleno, quindi ho voluto fare una decorazione un po' arcobalenosa, se così si può dire. Ho utilizzato come washi principale questo qui che l'ho preso da Aliexpress, mentre invece il washi o il paper tape questo in alto e questo in basso l'avevo preso da Tiger ultimamente, non mi ricordo di quale collezione era, però comunque era ultimamente. Poi per dividere i giorni della settimana ho utilizzato questo washi slim con tutti i cuoricini super colorati perché secondo me ci sta veramente bene e mi piaceva veramente tanto come appunto ci stava. Gli stickers che ho utilizzato tutti a tema arcobaleno l'ho presi da Aliexpress in quei pacchettini dove danno appunto sei fogli ed era appunto tema a tempo diciamo. Poi ho scritto diciamo i miei mezzi impegni della settimana. Oggi ho scritto appunto che c'era il video della decorazione agenda come ogni lunedì. E poi per scrivere i giorni della settimana ho utilizzato una semplicissima stabile o color nero perché onestamente non sapevo che colore scegliere visto che la decorazione era già bella colorata quindi mi sono detta vado con un color neutro. Appunto ho utilizzato il nero che tutto sommato ci può star bene quindi ho utilizzato tutti i stickers con gli arcobaleni sono veramente belli ora ve li mostro più da vicino. Scusate ma come ho già detto in numerosi video non ho il supporto per il telefono comunque per registrare ecco il video quindi faccio tutto a mano libera quindi vi chiedo scusa se non riesco a stare proprio ferma ferma diciamo che non è il mio forte. Comunque questa è la decorazione di questa settimana spero che sia piaciuta anche a voi come sempre se la decorazione vi è piaciuta vi invito a lasciare un bel pollicione in su a iscrivervi al canale qua giù in basso nell'info box dove c'è scritto qua dove vedete il mio ditino dove appunto c'è scritto iscriviti cliccate lì attivate la campanellina così che vi arriva le prossime notifiche dei miei video. Come sempre giù in basso nell'info box vi lascerò il mio account instagram così se volete curiosare cosa pubblico e niente penso di aver detto tutta poi ho scritto che domenica 10 è la festa della mamma che altro dire per adesso non ho scritto nient'altro perché non ho nient'altro da scrivere e niente questa è la mia decorazione di questa settimana tutta arcobaleno. Un bacione grande grande ciao ciao al prossimo video ciao